Iniziamo con un Chesapeake Bay Retriever. Flat Coated Retriever, Golden Retriever, Labrador Retriever, Cauda e Agua, Nova Scozia, Clumber Spaniel, Lagotto Romagnolo, Cocker Spaniel Inglese, Cocker Americano. Raggruppamento che racchiude le razze da riporto, si retrieve le razze di tipo Spaniel. Vediamo ora, preselezione per il Golden Retriever, il Golden per cortesia, sul primo bollo, Labrador, Cauda e Agua, Clumber Spaniel, Lagotto Romagnolo e Cocker Americano. Abbiamo i sei finalisti, li vediamo ora muovere singolarmente, a partire dal Golden Retriever, Labrador, Cauda e Agua, Era la volta del Clumber Spaniel. E' ora la volta del Lagotto Romagnolo. ed è la volta quindi del Cocker americano. Al terzo posto, il Cocker americano. Al secondo posto, il Clumber Spaniel. E vince questo ottavo raggruppamento, il Labrador, che fa un giro di ring. Un bel applauso per il Labrador. Ottavo finalista per il Best in Show, l'uscita da questa parte, di qua. Louis San Joanna farmè legale, un bel applauso per il pres fatto infatti. Grazie. Grazie.